Questa invece la facciamo per i vegetariani. L'impasto ai 7 cereali. Andiamo a mettere un po' di fior di latte. Io la chiamo gratinata. In questa gratinata gli andiamo ad aggiungere anche il bambù trifolato. Poi lo andiamo a finire con un po' di pane profumato, che qua da noi vanno molto le verdure gratinate. E allora proviamo questa nuova ricetta. Vuoi fare anche tu una pizza buona come la mia? Acquista i vasetti al sito www.consorziobambuitalia.it Che buono questo bambù!